Senti Sharon, io te lo devo proprio dire, guarda Sì, tu sei fantastica, sei meravigliosa, sei splendida, come devo fare con te? Grazie, molto gentile Lo so, tu mi accendi tesoro, tu mi accendi tutto, proprio dai piedi fino alla testa, i caldaccini mi fai venire Senti Sharon, però ti devo dire una cosa Senti, a me piacerebbe fare un viaggio con te, andare in vacanza con te Sì, magari andiamo in un posto esotico, eh? Portorica Ma vabbè, portalo Però io volevo andare da solo con te Sharon, e dai Vabbè, tu porta chi vuoi Però quelli li lasciamo in un'altra camera Però io e te, da solo, dentro la camera nostra A fare i tiki 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 Eh, che dici? Sì Però ora andiamo, cominciamo, ci riscaldiamo Ti faccio vedere ricco, andiamo Ti vuoi vedere? Ricco È ricca!